Buona notte, buona notte, buona notte, buona notte. Buona notte, buona notte, buona notte. Buona notte, buona notte, buona notte. Buona notte, buona notte. Buona notte. Buona notte. in democchiato spazio come si usa un po' alla non è possibile che arriva in acqua così calon da salva calon di segna da salva per l'equivo di Centro Dominguito di Arsino Peter e Nando Enchi buscando Gemi Gemi Tadrenta e team penalty team penalty i carci i carci Danico Paolet Enchi Martina Tadrenta guardando Enchi Tadrenta Enchi Tadrenta si non metta bolle e tira e defensa a Trumi e defensa a Trumi e defensa a Trumi ma c'è tempo non sto mirando ora con un penalti che vengono a Trumi che defensa che sale il disparo ma c'è non c'è ma c'è tempo e se non metta ma c'è tempo e se non metta in un'attore ma c'è tempo ma c'è tempo e quando abbiamo la media luna con la nostra area di penalty i due punti sono più importanti dicono, se il minuto è il controllo per me è quello che abbiamo bisogno di avere queste due punti e poi arriva a un gato, ma circa Ashar, Fidou, Corte Cuero, Furet Marta è male! Drencando Enchi! Drencando Enchi! è una città tira, però drenarlo e buon movecione, ma devo dire sono liberi parti paribili che è l'inizio, è l'opera della direzione buscando Ashar, Ashar, Fidou vai Ashar, Fidou vai, Ashar, Fidou vai Ashar, Fidou vai, Fidou vai, Fidou vai, Fidou vai di classe di cento vai servire è un buon partidato d'equipo di Bologna è! Bologna, Fidou vai lentamente e Fidou vai, Fidou vai, Fidou vai fuori centro e scorta che da un panato arriva equippo di due centro barbara ok, torgo questa clapa non sbagliato di due metà di partito attapitazzo di Cepa con Cepa e va alla comissale ora in cambio del centro barbara in cambio del centro barbara in cambio del centro barbara è un senso di rin un buon partido che non si non è un buon partidato non c'è tanto è un buon partidato non c'è tanto però... un dosco papa, è un città sempre quello, c'è vita a 30, goli, 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 golazo centro barbara, golazo centro barbara, per questo è un cappon, ma non c'è mai il gioco, ma non c'è mai il gioco, golazo centro barbara. Sì, benissimo, è arrivato, ma non c'è mai un gioco, ma non c'è mai un gioco, un gioco, un gioco, Sì. In questa forma, un colpo barba che stesse, è una cosa più difficile per qui, potessi essere. Mi metti, mi metti, qualcuno che vanno qui. Menguito 0, barba 2. E non si indigna, metti. Sì, sì. Mi metti a me. Come, che non si vanno a ricercarsi. All right, let's begin. Oscar Cielo che hai. Tira un libro per l'equipo di San Domingo e Grosso. Véctor e Deportero, sì. Papa e Senia. Contacto in 2. Eta Miracruzza. Golazo! Golazo per l'equipo di Barbo. Golazo per l'equipo di Barbo. Centro Bárbara. Quimera o Rens das Dorri. Quimera o Rens das Dorri non passa di farlo, Truman. Però fai, che è una dor che le lezionei, no? A me non vuoi che vai a banda, beh, un dos. Capì, un pate è un perde vale. E' un perde vale, è un perde, è un perde gol. È un perde gol. Contra a golpe. Futbol da classe. Dichò, vengono per l'accia, buscate una combinazione di un e due. Gustavo al sambo, accia, basta la banda per Gioge. Gioge è tardi, Gioge è tardi demasiado. spesso a San Aracchia, buong'e. Preparando un pesciò di spesso di Vega. Gioge èückonigliata Gioge è pallone per chi? Biazzi di mare. E' il padre che vai a Bacharta, ah, ma cosa che ti va a andare ad andare a Buscatino? Allora, buono, tu puoi direnterà qua è quattro limpi, non? Sì. Tu puoi scassi, che è un puto, non vera, che è, cosa qui va, un po' direnterà limpi. Sì, sì. Final! Final di è partito. Final di è partito. Victoria Pequipo di Centro Barber. Barber Tagana dell'equipo di Dominguito, tre panada per me. È una victoria buona, ma non avevo descansato, delante, scordi un panada, vim back, resisti contro l'equipo di Centro Barber. Sono un tocco d'orso, un'ador dell'equipo di Centro Barber, per me, Giureanze Ance Martina e anche Dino Lorenz. Ance, buono, d'accordo, mi amato tutto con noi. Come è partito? Buono, oggi è in primo lugar, partito da Bomber, centro che balla molto, tanto, però non sapevo una parte forte, da me, non sa sera, che traerà il contragolpe, lo che non andrà suagto in giro, e è un risultato anche. Buon penalty? Non ti che non so, non so, ma io credo che Giocella bimbea come, come per tirare via. che per la spera di Barba del ultimo partito? il ultimo partito non sto ben sicuro per classificare per Kaya Quattro per il nostro DIN per la finale che trovi Angie Martina con DIN Lorenz per motion and fashion DIN, per 30 e per scorrere? per 30 e per scorrere ma sì, mi sono 60 minuti nel studio in VEGA Kiko sta in una parte forte Kiko mi percorre corta i miei denti per farlo e sì gloria a Dio ma non è un gol come ti senti? per me è un Barber mi sono costruito un po' nella cultura e in un'altra cultura il mio team è un'altra cultura e per me è un po' lento ma per me è un po' la confidence Barber è campione? Barber è campione non so come il sacco, due suonatori per me è Angie Martina autore di per me tanto e anche DIN Lorenz autore di 3 gols Ingi Omar Ingi Piternella DT di equipa di centro un 3-1 non so come il 3-1 non so come il 3-1 ma è un fiume un fiume che sento un fiume operatico mi pareva male e la concentrazione non so come il 3-2 non so come il 3-2 che cosa giù per andare fuori, perché non mi sono già attraverso il fútbol, non si non si vanno. Se non lo siano, alunque non si vanno, non si vanno. Che cosa consiguiere il fatto di parte più forte della squadra? Beh, per quanto riguarda il fútbol, non si vanno a fare l'altra squadra, per quanto riguarda la defensa. Se non lo riesce, non si vanno a fare l'altra squadra. Se è andato a fatto il ultimo partito, però non è il playoff di sei contro il Fortuna. Scarpene. Scarpene, corretto. Come ti ripesi? No, non è così ma che ci hanno stato di trening, siamo intrati a fare la fumo, ma siamo stati in questo modo, non c'erano le due due, ma non si è venuto a fare il playoff. Ma non è venuto a fare il playoff, ma non si è venuto a fare il playoff, ma non lo so, non è venuto a fare il 4 con la derrota, ma non è venuto a fare il scarpene. Ma mandato a Giorgio con il 2-2? Sì, due metà, ma mandano a Pannanbaipur, potrebbe essere cambiato, ma siamo arrivati a Giorgio, ma basta prendere il gol, ma non è approvace di andare, ma non è arrivato a Pannanbaipur, ma non è arrivato a Pannanbaipur. Ok, grazie. Ingiomar, Ingi Piternella, DT di Equipo di Centro Meguito, ha avuto una derrota di tre panada nel centro Barber. Motion and Vision, grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.